Bella la partita, eppure interessante. Peccato che la Pay TV sia appunto pay, a pagamento, mentre le schede siano clonate. Il Tribunale ha condannato un campano a quattro mesi di reclusione per violazione del diritto d'autore. L'uomo aveva ottenuto da un pirata informatico una chiave d'accesso elettronica per criptare il segnale dei programmi e aveva ceduto le schede taroccate ad amici e parenti, tra cui sei vicentini che seguivano la Champions League e gli ultimi film comodamente a costo zero. Adesso invece pagheranno, perché sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza e stangati con multe salate.